bella raga questo è un video particolare a proposito di holly e benji è in collaborazione con un mio carissimo amico non faccio nessuna anticipazione perché adesso parte il video ragazzi un bacione e questo questa novità sul nostro canale buon divertimento bella a tutti ragazzi questo è un video per cataldo io sono furious demon o del canale credo so furious cataldo is the master of the wa wa zubasa bella Grazie a tutti